e qui avvertiamo ancora di più l'allungamento sul quadricipite essendo nella posizione di salvataggio deve tenere sempre la testa fuori per vedere appunto il pericolo possono essere un'alternativa saziante e rimprestante quindi cerchiamo di stare attenti soprattutto con l'esecuzione c'è diritto bravissima andiamo ad aggiungere un tip ok le via buongiorno fitness per tutta l'estate ogni giorno su rete 8 grazie